Si è concluso con la consegna degli attestati agli otto partecipanti, il corso di approfondimento sui temi vitruviani che si è tenuto dal 27 giugno all'8 luglio a Palazzo San Michele Afano. Gli allievi iscritti, tutti laureati o specializzanti in architettura, storia dell'arte e archeologia, hanno potuto seguire lezioni e partecipare a visite guidate, grazie al lavoro di squadra svolto dai membri del Comitato Scientifico del Centro Sud di Vitruviani e da tutti i docenti che si sono impegnati nella buona riuscita del progetto. Soddisfatto è il coordinatore Oscar May che ha parlato di un successo non scontato. Siamo riusciti a portare a Fano degli allievi sia italiani sia stranieri, quindi dal Brasile, dalla Germania e dalla Finlandia ad esempio, che hanno lavorato, hanno studiato, hanno partecipato a delle lezioni con i massimi esperti di vitruvio al mondo proprio a Fano, facendo anche escursioni nel territorio. Ci proponiamo di rinnovare la Summer School nel 2023 anche negli anni successivi, anzi siamo già al lavoro in questo periodo con il Comitato Scientifico per programmare l'edizione 2023. Stessa cosa per quanto riguarda la rivista, era uno degli obiettivi più importanti per connotare scientificamente il Centro Studi Vitruviani, è uscita a giugno 2022 con articoli di diverso tipo, in diverse lingue, con tra l'altro una nuova ipotesi sull'ubicazione della Basilica di Vitruvio a Fano e anche essa uscirà il secondo numero nel 2023 e abbiamo già aperto una richiesta di articoli, una call for papers per ospitare appunto saggi nel secondo numero della rivista Vitruvius. In programma anche convegni e nuovi scavi archeologici in piazza 20 Settembre, in piazza Vedute e in piazza Miani. Il Centro Studi però si auspica che Vitruvio possa avere un risalto maggiore a livello nazionale e internazionale, tant'è che oggi il presidente Dino Zacchilli ha proposto al sindaco Seri di intitolare un luogo della città all'autore del De Architettura oppure di istituire un premio DOC dedicato al mondo dell'architettura. Di certo il sogno è quello di poter indire un concorso per la progettazione della leggendaria Basilica, ancora oggetto di ricerche. In questi anni stiamo raggiungendo due obiettivi importanti, i primi due obiettivi che ci eravamo dati per quest'anno era una rivista scientifica, è uscita di spessore importante, l'altra era la Summer School che ha visto una bella partecipazione, oggi possiamo dire con soddisfazione realizzata, con una partecipazione internazionale che non erano di studenti, di studiosi, di gente anche affermata che sta lavorando su percorsi e progetti di ricerca importanti, perché l'obiettivo è quello che quando qualcuno vuole studiare Vitruvio deve passare per Fano e così sta succedendo. Quindi le attività sono tante perché abbiamo un patrimonio straordinario e non si può banalizzare e ripeto la ricerca porta a quel valore aggiunto e visto da sindaco anche quelle opportunità di sviluppo che passano anche attraverso la cultura.